...di piazza e che vanno valorizzate, abbiamo dei posti splendidi, siamo fortunati, fortunati non è la parola giusta, sono le scelte politiche fatte in passato, nulla arriva cavato dall'alto. Ora, si possono fare anche tante cose con pochi soldi, semplicemente utilizzando la buona volontà delle persone. Torino prima ha parlato di associazioni, ha parlato di gruppi di lavoro, ha parlato di cultura. La cultura è il motivo, secondo noi, che può muovere e rivitalizzare il centro storico. Abbiamo dei contenitori inutilizzati, sono dei contenitori bellissimi, ristrutturati, per cui sono stati spesi tanti soldi, della comunità europea o tra l'altro, sono stati spesi tanti soldi, altre strutture saranno sviluppate nel prossimo futuro e quindi piano piano il centro storico andrà ristrutturato quasi completamente. Ora, queste strutture devono essere messe a disposizione dei cittadini organizzati in associazioni culturali, perché così possiamo cominciare a movimentare il centro storico e la nostra piazza. E' una cosa facile e importante, perché vedere quei locali ristrutturati, bellissimi, su cui ci sono anche dei vincoli, su cui ci sono anche dei conflitti di tipo economico con le aziende, va bene, vanno risolti, ma vanno destinati alla cittadinanza, vanno restituiti alla cittadinanza. E' un aspetto importante, perché rivitalizzando queste strutture si rivitalizza la piazza. Poi cominciamo a considerare un altro aspetto. Se voi andate in piazza la sera verso quest'ora, vedete che la piazza non è più la piazza, è un quartello gioco. Perché il gioco? Cioè, le macchine sono messe in tutti i modi, praticamente, bisogna essere proprio bravi a guidare per non portare da una parte o da l'altra. Quindi questo significa che il centro storico è più degli automobilisti che delle persone. Quando arriva l'estate, i domani e i campini vogliono recarsi verso la villa, non è vero che non è utilizzata, è, diciamo, sotto utilizzata, però l'estate si rivitalizza. E in molti giovani e molte mamme vogliono le bambini a giocare. Non ci sono spazi sufficienti e adeguati per far giocare i bambini, né nella villa, né per l'altra parte. Non è demagogia. Io ho una figlia a cui, per farla giocare, qualche volta dobbiamo fare dei salti mortali.